Io sono di via Pia, centro storico, sono nato in un piccolo via Pia, uno di quei piccoli che da Piazzetta Maddalena va a finire dal Duomo, sono nato lì. Tre tipi di bande, c'erano quelli piccolini, quelli medi e quelli grandi. Allora, la banda che sui 9-10 anni, poi c'erano quelli che erano dai fine 13-14 anni e poi c'erano quelli più grandi che arrivavano fino al premilitare, prima della militare. Ecco, le bande erano quelle lì. Siccome allora dalla tua via era difficile spostarti, perché in qualunque via che andavi erano sassate o botte, sì perché ormai Savona era, noi eravamo una. Al porto ce n'era un'altra, al porto c'era un'altra. C'era quell'orangola, il basso, aveva la sua banda e andavi al porto, quella lì era terribile, andavi in via Faccioli ce n'era un'altra, in via Orassograssi ce n'era un'altra, andavi alla Bagnola, guai, se andavi in via Piana di nuovo, ognuno c'aveva le sue bande e te non uscivi, eri sempre in quelle lì, perché se andavi che ti beccavano e quante volte, allora quando eri ragazzino, cosa facevi? Partivi e andavi in campagna a rubare un po' di verdura, un po' di frutta e lì trovavi le altre bande che avevano il territorio, allora erano sassate, gli erano botte, ecco. C'era quello un po' più, che era più prepotente, faceva il capo, ecco. Però cosa facevi nelle vie? Allora giocavi, si giocava e basta. A quei giochi di ragazzi con le biglie, ti mettevi alla sera uno contro il muro e tutti gli altri ti saltavano addosso e via, e gira, e avevano quei giochi lì. Erano giochi, non c'era altro. I cassari erano lì vicini e ci andavamo perché c'era quello che vendeva il brodo di trippa, allora andavamo lì a rifornirci. Io sono andato a lavorare a 12 anni, ho fatto diversi stabilimenti, pizzorno, poi sono andato a lavorare. Ho lavorato in Piazza delle Erbe a Savona dove c'era il mercato all'ingrosso di frutta e verdura e ho lavorato lì fino al 1940. Uomo di fatica, c'era scritto sul libretto di lavoro. 12 anni, 13 anni, uomo di fatica. Allora a quei tempi era così. Volevo dire sollevare delle ceste di patate, di cipolla, tutto quello che capitava da vendere che arrivava io dovevo pesarlo, spostarlo, facevo tutti quei lavori. Chi lavorava più o meno eravamo tutti, gente che ci si conosceva, che era nella zona del centro storico, più o meno tutta la gente che era lì e ci conoscevamo tutti. E gente, fratellanza ce n'era, tutto, era un lavoro si può dire pesante ma divertente perché ci si aiutava, ci si voleva bene. Ecco, il lavoro non era poi, non diventava tanto faticoso anche se lo era. Poi sono entrato dell'Ilva e dell'Ilva ho fatto subito inizialmente, ho lavorato come boccia dietro i locomotori a inganciare i vagoni che portavano le grandi billette di ferro dai forni ai reparti e sono stato lì fino alla fine del 1941. Dopo mi hanno trasferito in centrale elettrica e lì ci sono stato diversi anni. Sono andato al porto e ho fatto qualche giornata perché io avevo un fratello che era socio, essendo morto per causa di guerra, io potevo allora prendere il suo posto senza fare ma io sono andato a provare. Il mio padre mi diceva, non venire al porto è fatica, vai nell'Ilva di nuovo, sei in centrale elettricista, la guadagni qualcosa meno ma fai anche meno lavoro. E io sono entrato di nuovo nell'Ilva e sono stato lì fino a che non mi ha mandato via nel 1949. I primi 29 che ho licenziato è toccato a me, a me è un certo cavaliero che poi è venuto al porto anche lui. Allora cosa faccio? Dove vado? Sono andato al porto, ho fatto l'avventisiatto, ho fatto tutto il resto e nel 1952 sono passato socio e via, fino alla pensione. Il lavoro del porto è fatto così che quando c'è delle navi si lavora e quando non c'è delle navi vai in giro a fare il vagabò. E tanti, i più tanti erano contadini, tantissimi e quando non c'era lavoro ci davano da fare negli orti, nei loro orti e noi ci rosolavamo. Eccolo lì, c'era la libertà, poi eravamo tanti amici, poi il padrone non c'era, se commettevi qualcosa c'era chi ti difendeva e era tutto un altro amico. Perché io, essendo stato nello stabilimento Ilva, che gli stabilimenti Ilva quei tempi, allora, se ti beccavano a fumare, multa. Dopo la terza, quarta volta ti potevano anche licenziare. Al gabinetto ci potevano andare una volta o due secondo il caporeparto che ti dava il permesso. Noi eravamo cotimisti al porto, c'era da fare un lavoro, saccheria, quella roba lì c'era, facevamo il nostro tonnellaggio, che era un, faceva parte delle tariffe, di convenzione con gli armatori, con gli utenti portuali. Noi facevamo il nostro lavoro. Quando facevi finito il tuo lavoro potevi andartene. Il portuale aveva il nome, e che erano quasi tutti attaccabriglie. Andavi a ballare erano molte, andavi in un'altra parte erano sempre molte. E beh, là, proprio ce le cercavano. Allora dovevi isolarti, perché se dunque, ero Scandinavia. E beh, Scandinavia era un bar frequentato da marinai, più tanti, da marittimi, gente lì fuori. Di Savona ce ne andavano pochi, perché avevano dei prezzi che... Poi prendevi una brutta nomina, guarda, se ti andavi dentro, poi per la strada facevano giù col dito. Se poi ti devi affare con una ragazza che era un po' seria, la mamma diceva, guarda, qua ho rifregoita, lì canto in avvia, il questo, quello, bro, era finita. E allora te ne stavi fuori. Poi era questione di carattere. Ne avevo passate troppe e allora ci tenevo.